Ha la possibilità di portare la Puglia sulla vetta del mondo. Si chiama Giuseppe Lomagistro in questi giorni in Francia per i mondiali di paraclimbing. Originario di La Terza sta rappresentando la nazionale italiana nella competizione che si terrà tra il 16 e il 17 luglio a Brianson. Una passione nata quasi per caso quando lui, già giocatore di basket in carrozzina, durante una gara è stato scovato dall'allenatore della nazionale Marco Ronchi. Adesso dopo aver già conseguito un terzo posto al Master europeo in Austria, Giuseppe, è il caso di dire, punta sempre più in alto. È stato molto bello perché indossare la mano della nazionale naturalmente non è una cosa che capita tutti i giorni. Nonostante la disabilità, arrampicarsi, che non è una cosa molto facile, è una cosa che ti dà molta carica. Il mio obiettivo naturalmente sarà quello di vincere il mondiale. Quello è il mio obiettivo e poi partecipare alle Olimpiadi, portare non solo l'Italia ma la Puglia a livello mondiale.